A Taranto per chi arriva dall'Ucraina è questo il primo punto d'accoglienza. Ci troviamo nella sede della questura di Taranto, il primo step è il tampone per un'eventuale positività al Covid, poi le certificazioni, i documenti necessari per restare qui in Italia. In sede di riunione preseduta dal prefetto con i vertici dell'asla abbiamo previsto questa possibilità di snellimento, l'ufficio immigrazione e polizia scientifica per il fotosegnalamento degli aspetti amministrativi e poi si procederà con il rilascio di un permesso di aggiornamento provvisorio nella durata di un anno se non ci sono particolari problemi. La possibilità di identificare rapidamente i positivi e poterli trattare nel miglior modo possibile è fondamentale, ma facciamo anche una scheda anamnestica vaccinale sia per la vaccinazione per il Covid, quindi procedere alla vaccinazione per il Covid, sia anche alle vaccinazioni dell'infanzia che purtroppo in questo periodo lì in Ucraina sono state sospese. Noi concludiamo tutta la procedura con la presa in carico di queste persone assegnando loro un medico di medicina generale e per i bambini naturalmente un pediatra di libera scelta. Questo lo facciamo registrando queste persone assegnando loro un codice e si chiama anche STP e lo identifica come straniero temporaneamente presente. In questo modo potranno accedere a tutte le prestazioni sanitarie. Grazie.